bella a tutti da porkmoz eccoci qua nella mia prima cattura mega rampa ora vi spiego come funziona vi dico subito che è leggermente troll ho scelto questo camion puoi prendere rimorchio e devo dire che questo camion qui si bagga tanto nella mega rampa quindi diciamo che come prima cattura non viene sempre al 100% però adesso vi faccio vedere qua non so cosa stanno a fare un demolition derby credo aspettate andiamo oh mio dio guardate qua cosa ho messo tutti gli omini cosa ok va bene andiamo io sono senza rimorchio però solo senza rimorchio motrollo gg aspettate ma subito è una volta mi hai trollato eh oh mio dio se praticamente dopo questa rampa si deve atterrare lì è solo che credo che sarà un bel problema consegnare almeno una volta comunque adesso ci gustiamo la caduta d'ersuinos oh mio dio è diventato un elicottero ok allora qui ho messo l'elicotterino così almeno possiamo andare qua l'unico problema è che spero che ci siano un po' di veicoli eh raga non mi trollate non mi trollate con questa eliche devo scappare sui questo è buono si andiamo 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 sali con me sali con me non mi trollate sui oh mio dio aspettate eh e qui sto facendo un po' i danni ok questo rimorchio vorrei questo qui questo qui questo qui per favore sui ok agganciato possiamo andare il problema più grande è che se c'è qualche veicolo giù sapete ok cerchiamo di andare tranquilli no rega vedo già qualche veicolo giù c'è qualcuno giù addirittura per favore sui levati no rega c'è proprio traffico è impossibile ci provo eh ci provo no rega quasi ce la farò ce la farò consegnare state tranquilli però il problema più grande è il traffico nella mica rampa perché se c'è traffico lì dopo non si può saltare bene bene ok aspettate no rega non mi distruggiate pure questo camion ce la farò scendere io ci provo olè prendiamo questo bronzo di riace qui è bronzo si ok siamo vivi altri camion ci sono rega scusatemi ma vado di fretta la situazione è leggermente esplosiva ho creato un bel casino non una cattura ho creato il panico aspettate non mi serve una cosa no sui non mi trollotti ma guardate aspettate che un po' lo troll lo sui ok no no sui non mi trolli eh mi serve un rimorchio ce la farò più che altro io vi voglio far vedere come si consegna ma credo che sarà impossibile ho messo 8 giocatori ma credo che era meglio 4 era meglio 4 guardate qua ok 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 un rimorchio ho spettato e questo è il mio no 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 è mio è mio è mio è mio leva te ok aspettate no no non è capito niente questo è il mio no no mi ha fregato il rimorchio raga mi ha fregato il rimorchio io 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 non lo faccio andare via tranquillamente eh ma te lo rifrego sto rimorchio vieni qua c'è anche un rimorchio qui raga non mi chiedete niente per favore eh ok se riesco a spostare questo rimorchio no no raga non ci riesco comunque credo che giù ci sia un po' di traffico eh ok prendiamo questo rimorchio qua ho schiacciato qualcuno credo proprio di sì devo sperare che qualche rimorchio spawni qui comunque troppi elicotteri raga ho creato una cattura leggermente impossible ma non c'è nemmeno un rimorchio qua perché uno me ne serve uno solo mancano 25 secondi e non ce la facciamo comunque in questi 25 secondi andiamo qua ok oh mio dio a momenti stavo schiacciando uno e ci buttiamo tanto non possiamo fare nada non credo nemmeno che abbiamo vinto perché vince chi fa più kill vincitore va bene prossimo round ok nuovo round scusate sempre la tonalità di voce ma ho sempre un po' di influenza e questa cosa non mi piace perché rimango trollato già mi trollo quando sto bene figuriamoci quando ho leggermente la febbre no anzi proprio febbre raga magari leggermente taglio sui prendi sto rimorchio uno almeno ok 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 possiamo andare credo di sì via 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 rimorchio mio rimorchio mio raga ok stiamo tranquilli andiamo giù oh mio dios speriamo che nessuno si trolla qua eh perché perché già qualcuno si è trollato è andato fuori è andato fuori aspettate sui sto andando più veloce io com'è possibile sui non riesco a capirla sta cosa no ok no raga era il momento adeguato ma niente da fare avrei dovuto lasciare un po' il gas io eh però non riesco a capire perché scendeva più veloce il camion mio forse perché sono sceso più velocemente io credo di sì comunque qua c'è un problema ok il problema era che stavo per morire allora mancano i rimorchi come possiamo fare ok spavano uno ospettate io prendo non mi conviene prendere quel camion prendo questo ok ce la faremo spero di consegnare almeno una volta nessuno ha consegnato bene questo è veramente un bene anzi no ok sui lasciamola a me eh andiamo levati 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 aspettate che c'è lui qua vado io vado io vado io vado io qua c'è la carcassa dell'elicottero che potrebbe trollarmi ve lo dico eh levati no raga guardate che traffico che c'è giù è impossibile veramente impossibile strike ma il bello è che la gente sta tutta qua eh non si leva eh raga sapete che vi dico io mi sparo un bel potere d'arsuinos nella mica rampa e non possiamo fare nulla ci conviene ci conviene solo che quando inizia il round andiamo subito giù oh sui fai un po' d'attenzione no ho finito le molotov vieni qua dux no lo voglio uccidere io guarda come ha lanciato la molotov da dietro si è suicidato nemmeno la kill mi ha dato comunque sta arrivando qualcuno qualcuno col paracadute sta arrivando un camion raga aiuto mi sono salvato a quanto pare si comunque è da rivedere perché è la prima cattura quindi non l'avevo provata con otto giocatori e vedo che otto giocatori sono troppi per questa mega rampa veramente troppi ci rimane solo da spararci un bel potere ok e ora dobbiamo cogliere l'occasione proprio subito sali sui sali 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 che dobbiamo prendere subito un bel rimorchio e portarlo giù ok credo che siamo messi bene prendi rimorchio sui da che sono il primo da che sono il primo do sui rimorchio 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 e rimorchio mio sono ancora vivo andiamo mamma mia che casino andiamo giù ok sono vivo sono vivo e sono primo non lo so sui non me trolla non me trolla non me trolla io freno un attimo così lo faccio passare avanti ok andiamo al massimo ora oh mio dio questa volta ce la faccio ce la faccio aspettate no sui perché ti sei trollato proprio ok non chiedetemi niente ma proprio nada ok siccome non si riesce a consegnare voglio fare una cosa estrema molto ma molto estrema aspettate solo un secondo che andiamo belli alti oh mio dio quanto siamo morti ci buttiamo e ora facciamo questo aspettate ok andiamo più bassi oh mio dio guardate che spettacolo wingsuit così meraviglioso andiamo ancora più bassi rega è rischioso eh oh mio dio oh mio dio quanto ho rischiato andiamo e qui è un bel problema io me ne vado da qua ok andiamo giù il wingsuit nella mega rampa devo dire che è venuto bene qua c'è pure un camion però non si può usare perché non possiamo risalire sali sui sali su che andiamo a prendere un bel rimorchio eh ma se prendo il rimorchio te non cadi no oh mio dio non chiedetemi come ha fatto a salire target è cascato infatti l'hanno ucciso no no non partire così però credo che ci sia traffico giù sapete se non c'è traffico possiamo consegnare non c'è traffico no no rimorchio rimorchio per una volta che è tutto ok no no raga non c'era niente giù c'era qualcosa era libera raga poteva essere un punto per il suino invece nada abbiamo vinto non chiedetemi come però abbiamo vinto comunque abbiamo subito un altro round perché devo consegnare ci giochiamo un altro round e questa volta consegniamo promesso dai speriamo che il mio suino trollato ce la fa che oggi è molto trollato comunque devo partire subito ok aspettate che qua vedo che la situation è bella tranquilla no 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 rimorchio rimorchio e mo come faccio a fare manovra ce la faccio si 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 aspettate levati ok scendiamo giù dai sui mamma mia sono il primero ok andiamo a consegnare non me ne frega niente adesso si consegna stiamo dritti perché l'unica cosa da fare qui è stare dritti ok belli concentrati mamma mia da che un bel salto un bel salto sui mamma mia che salto vedete che è calcolato tutto bene e ora c'è da fare un bel gp sulla neve per ora che ci sono voluti tre round per consegnare è un casino veramente un casino mamma mia se casco adesso non lo so è acquitto ok andiamo tranquilli e qua si dovrebbe consegnare oddio sui ok primo punto del suino dammi 603p mamma mia adesso si che sono felice aspettate che è pieno di camion qua no no sui 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 scendi giù prendiamo questo camion rosso questo qui è perfetto però il rimorchio è incastrato aspettate che si può prendere dai raga ci sto quasi aspettate no ah ok 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 eccolo qui speriamo che non ci sia traffico andiamo giù guardate però che bella questa mega rampa no non è più bella raga spigatemi perché si è paggato mannaggia questo camion comunque c'era pure traffico perché vedo giù che c'è un rimorchio c'è addirittura un camion e niente mancano pochi secondi alla fine io direi di spararci un verbo del reter suinos perché ci rimane solo questo un verbo del reter suino almeno sono riuscito a consegnare una volta mio dio comunque sia vincitore se vi è piaciuta questa mega rampa lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale sui video su instagram saluti sui suini bella iscrivetevi al canale Grazie per la visione!